Ho letto cent'anni di solitudine. Ho letto cent'anni di solitudine di Gabriel Garcia Marquez in questa edizione ormai logora, vecchia, per cui ancora più preziosa, come sanno gli amanti dei libri che adorano l'oggetto libero, sentire impressa la memoria del tempo della lettura e di quello delle letture, ma dicevo che ho letto cent'anni di solitudine in questa edizione quando avevo 15 anni. Io ho sempre mantenuto di quella lettura un ricordo molto esotico quasi, poiché nel riandare alla scoperta del romanzo, riandavo pure alla circostanza in cui l'avevo letto, un posto di montagna durante un'estate, un'età beata della mia vita. Ho deciso di riaffrontare il romanzo un anno fa, diverse generazioni dopo da quando l'ho affrontato per la prima e al momento unica volta e devo dire che ne sono rimasto molto deluso. Non pensavo di perdermi, come mi è accaduto, in un labirinto di nomi che reiterano sempre se stessi solo con la variante della sequenza numerica, Aureliano II, Aureliano I, Arcando, nomi che creano una moltitudine nella quale è difficile districarsi. Quindi ho detto, lo ritenevo un cavolavoro, non lo mantengo nella mia memoria di lettore come tale, ma è accaduto quello che ci sta accadendo. E una parte di me è riandata più volte a ricordare un passaggio preciso di Cent'anni di solitudine, un capitolo per esattezza, un preciso capitolo di Cent'anni di solitudine che stava lì a dirmi, vedi, ti avevo dato appuntamento, vi avevo dato appuntamento a te e ai tuoi coetanei e contemporanei. Torna a rileggermi e forse troverai informazioni prossime a quello che sta succedendo. Si tratta del capitolo in cui a Macondo comincia a piovere e non smette di piovere per un tempo infinito. Piove per quattro anni, undici mesi e due giorni. Ci furono epoche di pioviscolo durante le quali tutti si imposero i loro vestiti di pontificale, si composero una faccia di convalescente per festeggiare la spiovuta, ma ben presto si abituarono a interpretare le pause come annunci di rincrudimento. Si disselciava il cielo con tempeste di strepito, il nord mandava uragani che sguernirono tetti e sfondarono pareti e sradicarono le ultime ceppate delle piantagioni. Com'era successo durante la peste dell'insonnia che Ursula si trovò a ricordare proprio in quei giorni, la calamità stessa andava ispirando difese contro il tedio. Aureliano II fu uno di quelli che più si diede da fare per non lasciarsi vincere dall'ozio. E già in questo inizio di capitolo tante cose le riconosciamo come nostre nel nostro quotidiano odierno. Le pause. Le pause date come annunci forse di fine o forse di rincrudimento. E soprattutto questa durata che è messa all'inizio nel primo rigo del capitolo di 4 anni, 11 mesi e 2 giorni, che è una durata che all'inizio della sciagura della pioggia non si può assolutamente pronosticare. Gli abitanti di Macondo non possono sapere quando durerà la pioggia. La pioggia comincia e probabilmente la sera sarà finita, potrà sfogare durante la notte, ancora il giorno dopo, due giorni e poi tre giorni e poi tre settimane e poi tre mesi e poi tre anni e oltre. Non c'è termine. Nell'intelligenza della natura i programmi non vengono formulati con la progettualità che degli umani. Nel capitolo Neve, nella montagna incantata, Thomas Mann ci racconta qualcosa di simile, di quando il personaggio protagonista del romanzo, Castor, rimane impiantato con gli sci contro una baita nel pieno di una tempesta di neve e dentro di sé dice «Ma non potrà accadere qualcosa di tanto straordinario da impedirmi prima o poi di riscendere a valle», ignorando o volendo ignorare che l'intelligenza della natura, torno a ripetermi, non intende minimamente rapportarsi con i bisogni umani. E se la valanga ha da crollare, crollerà. E se la valanga dovrà portare tonnellate, centinaia di tonnellate di neve, le abbatterà tutte contro il minuscolo Castor. Allo stesso modo la pioggia che comincia a cadere su Macondo comincia e dura, e dura, e dura, e perdura ancora. A questo punto la comunità di Macondo deve rapportarsi con qualcosa che ha cominciato ad essere che ancora è e che non si sa quando terminerà. Nemmeno il buonsenso può dirlo. E allora ecco che intervengono stati d'animo e attitudini e comportamenti in cui pure ci riconosciamo. Fernanda credeva davvero che suo marito aspettasse la fine della pioggia per tornare con la concubina. Una delle prime cose di cui si è quasi con una punta di divertimento domandati all'inizio della nostra quarantena è che ne è delle coppie non ufficiali ma divise. amanti che magari sono tali anche per il mondo e che quindi non hanno bisogno di nascondersi, ma amanti che invece al mondo si debbono nascondere e che pure hanno bisogno del loro frequentarsi. Divisi, separati, spaccati. In questo caso è una moglie che anche maliziosamente e malignamente vede il marito costretto a essere separato dalla sua amante. E poi la separazione nel momento del lutto, al momento in cui un amico può essere durante questo periodo scompaglia. E voglio dirlo, a me è accaduto. Quindi ho sperimentato la separazione dall'amico attraverso la separazione dagli amici comuni, dagli affetti comuni. l'assenza del rituale salvifico della sepoltura di cui parla Antigone, su cui si incentra il mito di Antigone che pure fa parte di questa nostra ricognizione. Eccolo, un funerale a Macondo durante il tempo della pioggia interminabile. Sarebbe stato impossibile concepire un corteo più desolante. La bara era stata messa su una carretta da buoi sulla quale avevano costruito una tettoia di foglia di banano, ma la pressione della pioggia era così intensa, le strade erano così impantanate, che ad ogni passo le ruote affondavano nel fango e la tettoia era sul punto di disfarsi. I rivoli di acqua triste che cadevano sulla bara inzuppavano a poco a poco la bandiera che vi avevano messo sopra, e che era in realtà la bandiera sporca di sangue, di polvere da sparo, ripudiata da veterani più degni. E più avanti, dietro la carretta, alcuni scalzi e tutti quei pantaloni a mezza gamba di guazzavano nel fango gli ultimi sopravvissuti della capitolazione. Questi alcuni che di guazzavano, questi alcuni sanno tanto di 15, un corteo di 15, di 15 amici e parenti, come tanti, ne consentirebbe l'attuale decreto in risposta al Covid. 15 possono essere alcuni, alcuni possono essere 15, questo il funerale al tempo della pioggia di Macondo. E poi il disastro economico, lo scialo delle risorse, delle energie, della produzione, i pascoli si stavano allagando, le mandri fuggivano verso le terre alte dove non c'era più da mangiare ed erano la mercè della tigre e della peste. Più avanti, vide con un'impotenza sorda come il diluvio andò sterminando senza misericordia una fortuna che un tempo era ritenuta la più grande e solida di Macondo e della quale non restava che la pestilenza. Macondo che ha già conosciuto una malattia epidemica, la cosiddetta peste dell'insonnia che ridusse l'intero paese in una condizione di insonnia collettiva e perdurante, ma poi superata. Ma adesso ci si ricorda di quel periodo terribile a cui non si sapeva dare una fine al momento in cui la pioggia echeggia quel tipo di malanno, di maleficio. Però è anche pur vero che quando la durata dura, non è un gioco di parole, è l'unico modo per dirlo, che quando qualcosa che insiste a durare insiste a durare, è anche vero che ci si abitua e si trovano delle risorse all'interno degli nuovi scenari quotidiani che possono addirittura riservare situazioni ludiche, soprattutto per i bambini. Amaranta e Ursula, Amaranta e Ursula, il piccolo Aureliano, si sarebbero ricordati del diluvio come di un'epoca felice e questo può essere che avverrà per molti ragazzi, particolarmente giovani, che possono produrre attraverso la loro immaginazione tutto quello che sta avvenendo in un periodo particolare, per certi versi, se non leggendario fiabesco e che così ricorderanno nel loro futuro essere adulti. Nonostante la severità di Fernanda, diguazzavano nei pantani del patio, cacciavano lucertole per squartarle e giocavano ad avvelenare la minestra buttandovi dentro polvere di ali, di farfalle negli attimi di disattenzione di Santa Sofia della Piedad. E poi, ecco che la pioggia finalmente cessa dopo quattro anni e mesi e giorni. Aureliano II si trovava ancora lì nella seconda settimana del giugno seguente, quando la pioggia cominciò a calmarsi e le nubi si andarono alzando e si vide che da un momento all'altro sarebbe spiovuto. Così fu. Un venerdì alle due del pomeriggio si illuminò il mondo a causa di un sole abbondante, rosso e aspro come polvere di mattone, quasi fresco come l'acqua e non tornò più a piovere per dieci anni. Ma ora si danno le macerie del dopo. ma Condo era in rovina. Le case nate come funghi durante la febbre del banano erano state abbandonate. La compagnia bananiera aveva smantellato i suoi impianti. Dell'antica città recintata non rimanevano che le macerie. Le imprese hanno dovuto lasciare interrotte le loro azioni. La produttività non può riprendere da dove ha smesso di avvenire. e soprattutto i sopravvissuti porteranno probabilmente per sempre i segni di ciò che è accaduto, sino a manifestarlo attraverso una metamorfosi visibile a colpo d'occhio, fisiognomicamente. Conservavano ancora sulla pelle il verde di alghe e l'odore di cantuccio che gli aveva impresso la pioggia, ma nel fondo dei loro cuori sembravano soddisfatti di aver ritrovato il villaggio in cui erano nati. E più avanti, gli arabi della terza generazione erano seduti nello stesso luogo e nello stesso atteggiamento dei loro padri e dei loro nonni, taciturni, impavidi, invulnerabili al tempo e al disastro, né più vivi né più morti di come lo erano dopo la peste dell'insonnia. Era così sorprendente la loro forza d'animo davanti alle macerie e più avanti che Aureliano II chiese con la sua solita sgarberia di che trucco misterioso si erano valsi per non naufragare nella tormenta e tutti gli diedero senza mettersi d'accordo la stessa risposta, nuotando. In ciò che dura bisogna trovare il modo di abituarsi, il modo di adattarsi, modellarsi con il paesaggio permutato, diventarne parte, sopravvivere e continuare. Grazie.